Questo video è direttamente rivolto a coloro che hanno parenti, familiari, a quei testimoni di Geova, a quei testimoni di Geova che hanno parenti, familiari, vicini o lontani, a coloro che hanno conoscenti, lontani amici che invece non sono più, che hanno deciso di non essere più testimoni di Geova, di non essere più parte dell'associazione e che hanno smesso di frequentare. Ecco, mi rivolgo a voi, a voi che avete parenti, figli, genitori, a voi che avete quindi parenti stretti, che però non frequentano più, non vogliono più frequentare l'associazione. Quando vi ritrovate tra voi, quando vi ritrovate tra voi alle adunanze, alle assemblee, quei grandi raduni che fate, tipo quelli che state facendo adesso quest'estate, che farete quest'estate, e tra voi, tra voi testimoni di Geova, vi salutate calorosamente, come stai, come va, e i tuoi figli, oppure i tuoi genitori, io non li vedo più, ma che è successo, i tuoi figli, che è successo, non li vedo più. Ecco, quando fanno queste riflessioni, che a voi risultano sicuramente un po' imbarazzanti, perché voi siete ancora testimoni di Geova, e i vostri parenti invece non lo sono più, hanno deciso di non frequentare più l'associazione. Ecco, vi chiedo, vi chiedo di essere onesti, non ve ne uscite con le solite affermazioni, per togliervi da quell'imbarazzo, da quel disagio in cui vi state trovando, dicendo e si sono raffreddati spiritualmente, e si sono allontanati dalla verità. Quale verità? Quale? Smettetela di usare questo termine buffo. Solo voi potete chiamare verità una verità che continua a mutare, che continua a cambiare. La verità è un concetto stabile, mi raccomando, ricordatelo, le bugie sono soggette a cambiamenti, ma la verità è stabile, è costante, e voi siete all'interno di un'organizzazione che continua a mutare le sue falsità per adattarle alla situazione, quindi non siete nella verità. Per piacere, smettetela di essere ridicoli e utilizzare questo termine per identificare il vostro percorso di spiritualità. Voi siete in un percorso, diciamo, siete in un percorso, in una cosa che voi avete scelto, avete il diritto di perseguire, per carità, ma non siate buffi nel... non fate ridere utilizzando, mettendovi in bocca questo termine inappropriato per voi, la verità. Ecco, quindi, state onesti, vi prego, noi parenti vi preghiamo di essere onesti quando vi fanno questa domanda, che fino hanno fatto i vostri parenti. Ebbene, dovete essere onesti e dire, i miei parenti, che ne so, può essere i miei figli, o i miei genitori, i miei fratelli, i miei cugini, non vogliono essere più testimoni di Geova perché, alla luce di Luca, capitolo 21, versetto 8, hanno inteso che... dice, badate che nessuno vi sbii perché molti verranno in base al mio nome dicendo, sono io, il tempo stabilito si è avvicinato, non andate dietro a loro. Ecco, dovete essere onesti, dire, i miei parenti si sono stufati di essere presi in giro, i miei parenti si sono stufati di essere presi in giro, si sentono presi in giro, si sentono ingannati dalla nostra organizzazione, che noi invece vogliamo continuare a seguire, a motivo delle false, dei fallimenti profetici avvenuti negli anni. Non hanno più voglia di seguire questa illusione. È questo che dovete dire. Luca 21,8, lo dice, sarebbero venuto delle... delle istituzioni, ci sarebbero state delle istituzioni, dei gruppi, dei gruppi istituzionali che avrebbero ripetutamente detto il tempo stabilito si è avvicinato, la fine è vicina. Gesù disse, non andate dietro a loro. Quindi dite, onestamente, non dovete giustificare il fatto che voi continuate invece a seguire quell'organizzazione facendoci passare a noi come coloro che si sono raffreddati, che si sono allontanati, che hanno perso la fede, che... no, 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 così voi vi state salvando voi. Quando ve ne uscite con queste affermazioni nei confronti nostri, nei confronti dei vostri parenti che non vogliono più frequentare l'associazione, vi state salvando la vostra faccia. Invece no, dovete essere onesti e dire che si sono stufati di essere presi in giro. Non vogliono più essere presi in giro. Luca, Luca, capitolo 17, versetto 20 e 21, chiaramente Gesù disse che il regno di Dio non viene in maniera appariscente, però ci sarebbero state persone che avrebbero detto che il regno è qui, il regno è là. Gesù disse, appunto, non ascoltate queste persone. Se poi leggiamo Matteo, capitolo 21, no, perdonatemi, Matteo, capitolo 24, versetto 11, Gesù disse che molti falsi profeti sorgeranno e svieranno molti. Ora voi dovete essere, voi che volete in tutta libertà, siate liberi di farlo, continuare a essere testimoni di Geova, però avete parenti, la maggioranza dei vostri parenti che sono usciti dall'organizzazione, dovete essere onesti, onesti, non ve ne uscite con quelle scuse, con quelle frasi consolatrici che utilizzate tra voi, che io conosco, conosco, si è allontanato dalla verità, ha perso la fede, si è raffreddato, era previsto negli ultimi giorni, la pulizia comincia nella propria casa, cioè tutte queste stupidaggini, no, per giustificare la vostra ostinazione a voler essere ciechi, a non voler riconoscere che ci sono tutti gli indizi per purtroppo riconoscere che questa associazione sono falsi profeti, per tutti i fallimenti profetici e per tutti i cambi dottrinali che continuano a fare nel tempo e che poi la chiamate verità, ma quale verità? La verità è un concetto stabile, non è soggetto a cambiamenti, non è soggetto a mutamenti, svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi e siate onesti, soprattutto siate onesti quando conversate tra voi, non cercate le pezze per giustificare invece la vostra decisione, pur libera, nessuno ve la contesta, ma è il vostro decidere di ignorare gli indizi e le indicazioni che chiaramente dimostrano quanto fate parte di una organizzazione di falsi profeti, la società Torre di Guardia. Voi, testimoni diceva, vi dovete svegliare e smetterla di dialogare tra voi con i soliti metodi per giustificare invece la vostra debolezza, la vostra fragilità, la vostra incapacità di intendere, la vostra mancanza di giudizio, e riconoscere che siete... e poi vi fate fregare, vi fate fregare dalla società Torre di Guardia con quella solita frase, cioè ma non si serve Geova per una data, non si serve Geova per la fine, e allora perché predicate la venuta del regno, e allora perché predicate Armageddon? Dovreste semplicemente, semmai, predicare uno stile di vita, semplicemente uno stile di vita. Dovreste semplicemente predicare uno stile di vita, invece no. Il tema principale della vostra propaganda, che non è una predicazione ma una propaganda, è il terrorizzare le persone di una fine imminente. Illudere le persone che presto ci sarà un mutamento mondiale degli eventi, di un'istruzione dei malvagi, di un regno di Dio materiale che invece Gesù disse che il regno di Dio non è materiale, no? Invece voi siete come i farisei, vi aspettate un regno di Dio materiale. Gesù disse in Luca 17, 20 e 21 che il regno di Dio non si vede, non si può vedere, non è qualcosa che si vede. Ecco, invece voi andate illudendo le persone che presto sta per arrivare a una situazione di questo tipo, e poi vi fate dire dalla società attorno ai guardi, ma non si serve Geova per una data. Cioè, ma siete coerenti, sì o no? Illudete la gente di questo regno, è imminente, è in arrivo, i tempi è finito, e poi no, non si serve Geova per una data. Ma insomma, mettetevi d'accordo col cervello, vi dovete mettere d'accordo col cervello, col vostro cervello. Dovete imparare la coerenza. Non dovreste avere come tema principale delle vostre riunioni, delle vostre assemblee, delle vostre adunanze, delle vostre pubblicazioni, della vostra propaganda, il regno di Dio è vicino, la fine è vicina, i tempi sono scaduti, i segni degli ultimi giorni, e bla bla bla, e tutte le solite puttanate che vanno avanti da oltre 140 anni. Dovreste semplicemente concentrarvi sullo stile di vita, sull'aiutare le persone, dovrebbe essere quello il tema principale, l'obiettivo principale della vostra propaganda, lo stile di vita. Migliorare la propria condizione sociale, con un atteggiamento diverso nei confronti della vita. Invece no, voi continuate a insistere, a insistere, a insistere col discorso che la fine è vicina, la fine è vicina, e poi vi dovete sentir dire dalla società di guai, ma non si serve Geova per una data, allora tu che fai servizio per una data, ma ci stiamo prendendo in giro, ma cos'è? Ma voi siete pazzi, voi siete da TSO, voi siete da trattamento sanitario obbligatorio, chiunque va dietro a queste cose, a seconda di queste affermazioni, questa logica, non sta bene col cervello. Potete realmente solo stare tra voi, perché non è normale, non è assolutamente normale questa impostazione. Mancate di onestà totale, l'onestà non sapete dove sta di casa, è un problema grave, molto grave, che fa soprattutto male a voi stessi. I vostri parenti che non frequentano più la vostra associazione si sono liberati dal gioco del controllo umano di coloro che vogliono signoreggiare sulla fede e sulla coscienza degli altri. Voi invece siete ancora schiavi di questi signori.